Buonasera a tutti, io sono Francesca Fabri, sono la direttrice artistica della Frapallo in realtà Academy, ho il foglio sotto perché sono molto emozionata e quindi non volevo rischiare di perdermi dei passaggi. Allora, che dire, sono molto emozionata oltre al fatto che la ricomincio. Sono molto emozionata perché questa sera vedrete esibirsi insieme alcuni allievi di pole dance della nostra Academy e alcuni ballerini della moderna e classica della palestra Movit di Ravenna. È il primo spettacolo gestito, organizzato, finanziato tutto quanto dalla Academy per cui insomma l'emozione è doppia, quindi vi ringrazio ancora di più di essere tutti qua in questa bellissima cornice questa sera. Vi do qualche informazione di servizio, lo spettacolo dura circa un'ora e non ci sarà intervallo, ok? Quindi facciamo tutto tutto dritto. Vi chiedo cortesemente se volete fare foto e video, ok? Però per favore niente flash e niente luci moleste per non disturbare lo spettacolo. In ogni caso abbiamo Chiara che farà sicuramente delle foto bellissime, quindi già un applauso a Chiara che è tutto molto decisivo. Un'altra piccola informazione di servizio per chi non ha mai assistito a uno spettacolo di pole dance. Le pedane da pole oscillano, quindi è normale, quindi niente attacchi di panico in sala, perché oscillano e non volerà via nessuno. Se dovessero volare, sono pole dancer, sanno come cavarsela, quindi direi che è nessun problema. Vi ringrazio e vi auguro un'altra piccola informazione di servizio per chi non ha mai assistito a uno spettacolo. in quel fiocco di neve che ti ha appena sfiorato, c'è tutto un muro che ti verrà svelato. Lassù, in cima alle montagne, fra i picchi di punta a pole, vivono i piccoli non so chi della città di chi non so. Se vieni ai non so chi, di certo ti diranno, Natale a chi non so, si aspetta tutto l'anno. La finestra è gremita e la luce è colorata e la banda la marcia lega indirisa la barata. Pasqua è piena di sorprese, Carnevale è mascherato e la San Valentino si regala il cioccolato. Ma dalla punta del musico al dodicesimo ventimento, per il non so chi, il Natale senza dubbio è perfetto. A la Allison nye Cohenunta. Chegiamo crescere la marcia abello. A la Allison nye Rappolò che non so chi, l'abbiamo, la那 Mitchell, Patrice, Casta, Eru Underutto all' insponato. Chi, il Natale ștavraрез dunklo. Chi, il Natale esterile le richesse da sigla di servizio. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Vi ho appena racconizzato la storia del Grigio che il Natale voleva rubare e invece ha imparato ad amare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti